oh ma dove siamo? ma che succede? è tutto buio e qui fa quasi paura siamo chiusi dentro una prigione sotterranea ma guardiamo meglio sono i resti dell'Augusteo di Fano siamo immersi pienamente nella Romanità in questo tempio venivano venerati gli imperatori romani siamo nel primo secolo avanti Cristo passando per San Paterniano e il suo bel chiostro emergendoci ancora nella Romanità all'interno del museo archeologico splendido è il mosaico del Dio Nettuno e poi le statue romane Ilari la spada romana ora siamo a Santa Maria dei Serbi con le sue splendide tele di Giovanni Santi tele di Pietro Pannucci detto il Perugino e poi il legame tra Fano e il mare con grosse ancore e le ancore romane ripescate dal fondo del mare e infine il meraviglioso mosaico della Pantera tutto questo è molto altro in una parola Fano 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 Fano